Dal 25 al 31 maggio in piazza Dante sarà esposta l'opera di Davide Dormino Anything to say che è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Io penso che l'arte debba essere impugnata e scagliata, mi piace immaginarla così. L'idea di avere una scultura, poterla toccare, poter essere parte di quella scultura, essere il pezzo mancante di quella scultura è sicuramente uno degli aspetti che più mi interessavano di questo progetto. La scultura in bronzo raffigura Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning, tre attivisti accusati di aver rivelato informazioni riservate di diversi governi, in particolare sulle politiche degli Stati Uniti. Fra queste le pagine oscure delle guerre in Medio Oriente, le violazioni nella prigione di Guantanamo, il terribile video collateral murder, l'esistenza di un programma di sorveglianza di massa sul web. Assange comunque è imprigionato da più di 15 anni, quindi la sua vicenda sta pian piano prendendo spazio in questi ultimi anni perché l'opinione pubblica è ciò che sta facendo pressione sui governi, quindi noi abbiamo il diritto in assoluto di liberarlo perché finché lui sarà imprigionato, anche il nostro diritto si è preso. Questa statua è molto importante perché dà un messaggio di pace e di speranza, soprattutto dopo la notizia del fatto che ad Assange è stato concesso l'appello. Questo movimento internazionale è stato ascoltato, lo stesso movimento internazionale studentesco che c'è per fermare il conflitto a Gaza, dove purtroppo sono stati uccisi più di 100 giornalisti. In quello che noi di articolo 21 e imbavaiati abbiamo definito un vero e proprio giornalisticidio, mai nella storia dell'umanità sono stati uccisi tanti giornalisti in così poco tempo. Accanto ai tre attivisti, una sedia vuota invita il visitatore a farsi difensore in prima persona della libertà di parola. Una statua come questa, dove tutto, appunto, anything to say, la popolazione, gli artisti, i giuristi, i giornalisti potranno esprimere le loro idee, può essere un luogo come, diciamo, raccoglimento di massa critica rispetto proprio alla libertà di espressione e quindi è importante che in una città come Napoli, dopo aver conferito la cittadinanza onoraria proprio ad Assange, ci sia anche questo spazio di espressione.